SIGNORIIIIII infrastructure vista L'ultimo video del tiramisu ho fatto 100mila di viado!!! Non è vero, non è vero 100mila like Non è vero 100mila di usa Quello è un sogno 100mila visualizzazioni Che quello ti devo dire che Non hai capito Non hai capito adesso parte una serie di tiramisù che non finisce più adesso è al pistacchio ma poi alle fragole, all'ananas, all'albore AAAAH Al fritolo AAAAH La carne macinata Raga, fanno tutti i tipi di tiramisù, si muo escono video di tiramisù fino al prossimo anno Tiramisù con tiramisù dentro al tiramisù, raga Signori, superiamo di nuovo i 10.000 mi piace per favore perché per me Io non funzionavo per te Non hai capito, io mi sono messo a piangere Io mi sono messo a piangere Facciamo una vocale Pensavo come stiamo messi Signori, oggi il tiramisù al pistacchio Io non l'ho mai fatto Il tiramisù al pistacchio Ah no, il pistacchioso No, no, tiramisù al pistacchio incredibile E' un po' particolare Allora, vi ricordate quando io collaboravo con Coro? Pace all'anima mia e De Coro che poi non hanno più rinnovato il contratto perché Perché? La gente non comprava Io avevo questo preso l'altro altro anno Quindi è bello proprio No, no, fino al 2024 questo No, no, vabbè, io non ho Perché io e Simone abbiamo comprato due gelediere Uno ha fatto una volta il gelato io mai, sta là E quindi ho detto questo, ci fanno il gelato Ma io lo sapevo che un giorno sarebbe arrivato il momento del tiramisù perfetto Non lo sapevi Il pistacchio pazzesco Quindi qual'è la mia idea malsana? Perché questo non l'avamo mai fatto No, 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 non è vero voi vi provate i video Sapessi? Noi andiamo a mettere del latte Ok? E che cosa volevo fare io? Simone, assaggiamo questa È proprio così Buona Non è manco troppo dolce No Quindi l'idea mia è Quella di andare a mettere questa cosa nel latte E tu dici se scioglierà? Secondo me se scioglierà mai Fatteli c***a tua A me si vengono i cuori savoiardi zebrati Sì, ma è tutto fatto apposta E vediamo se Dio ce la manda buona Anzi, c'ho una grandissima idea Toro, toro, toro Ecco fatto Latte al pistacchio Ma non è vero Ma come non è vero? Latte al pistacchio Che dici? Scemo, non c'è niente sotto Tu madre si separa Anzi, già sei separata tu madre Questo, direi misù È con la ricotta Cioè non c'è il mascarponese dietetico Dopo due quintali di crema al pistacchio Però non è dove ci vado a crema al pistacchio Fatti c***o Metti qua le uova Stesso procedimento dell'altra volta E qui dovresti montare i bianchi Sì Fai cose un po' più risicate, no? Oh, senti Questo abbiamo... Allora, siamo allo budget Donate E ora io compro le ciotole E le lecca pentole È un periodaccio, Simo E le lecca pentole per forza Perché non c'hai un lecca pentole C'hai un... Ok, questi vanno montati, giusto? Ma no, ma gli bevi di così Guarda Che c'è va? Tu sei sicuro, eh? Mai stato più sicuro in vita mia Chissà com'è la travasata Il testo di c***o Non è un po' più comodo, mo? Allora, vediamo Testate 10 secondi su di te Perché su di me? Beh, l'altra volta l'ho fatto io Devi aver fiducia in tuo fratello Niente Ma come no? Dai, 10 secondi Però abbassate che se non te vedono Mirko Eh, Simone L'acide tu madre Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci Guarda No, sai com'è? È dato il... L'anti... Quindi anche questo Questo con un po' di zucchero No, Simone Vedi tu Perché fai schifo Ho una crema spalmabile Dolce Guardate E ci mettiamo Oh, ma se devi sapere di pistacchio Simone, devi sapere di pistacchio Non sa tanto di pistacchio questa No, sarà molto dolce Non preoccupare Poi una cosa del genere Non l'avete mai vista Meno male Arrivati a questo momento Sì Bisogna aggiungere la ricotta Eh Però io non l'aggiungerei tutta Mezza, forse Farei mezza ricotta Ok Non lo so Mettecià Perché sta dentro le cose Ed è... Molto liquida Quindi mi stai un po' di... Sgattolo Ma dobbiamo montare dentro... Una ciotola Che cazzo Che pure se è liquido No, che cazzo ne frega Ma... Ed ecco qua Questa prelibatezza Dopo che il latte Si è di nuovo Dissolto dal... Adesso tu mischi Lai Non mi rompi i coglioni E mi dai un lecca pentole fantastico Come se tu hai dentro questa casa? Arriva Sta lì Vabbè Sempre più piccolo Allora E questo è fatto Ammi comunque queste cose Non leccano un c***o Simone C'era sotto questa merda d'attrezzi Simone Non mi rompi i coglioni eh Fatto questo Cari amici follower Sì Noi andiamo a prendere I nostri Vincenzovo Simone io volevo farli Un po' gagliardi Cioè guarda qua Simone Guarda guarda Tu bagni questo Giusto? Sì Lo bagni E poi Lo fai così Però secondo me Va bagnato un po' di più Dico la verità Quindi andiamo a comporre Qua con questo latte Al pistacchio Però l'odore è veramente incredibile Cioè io te lo dico Ok Andiamo a fare Così Ti devo dire che Una roba più brutta di questa Veramente Vabbè ma tanto sta sotto Poi viene coperto Perché ti pensi che No 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 Fa veramente schifo però Senti Non è che io vengo a casa tua A ditte Che i savugliardi tua Fanno schifo eh No no Se questo cosa non sta di pistacchio Ma non sto dicendo Adesso tu Te lo ingurgiti in culo Te lo metti Adesso mi devi dire se non sta di pistacchio Stupido coglione Ma sicuramente c'è di pistacchio Dimmi quanto sta di pistacchio Ah ti piace bastardo che non sei altro eh Andiamo a mettere la nostra Clemina Al Pistacchietto Giusto Ricotta e pistacchio Ricotta e pistacchio Sta fai conciaro No 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 Cioè Bello così Ma che farei pure io Sì sì Ma lo facciamo Eh no poi ci metti tipo all'altra sopra Così pure in mezzo ci sta po' Ragazzi No per troppo hai detto No no Ragazzi questo è un tiramisù un po' particolare Sì Se vuoi venire al pubblico Sto a 18 euro un tiramisù così No no Non ce ne fai niente Qua è una notte Ah io se volevo dire solamente a uno strato e basta No invece sono goloso Oh Posa spacca la ciotola T'l'ha fatto un botto Oh vedi Quando mi sono verde mi sa vogliarti Così Oh così Ha brutto È brutto Lo posso dire? Vai metti metti C'è la manualità di un muratore santo Dio Io lavoravo con queste mani E toglia che c'è un c***o che ci ha lavorato Non lo com'è Minchia quanto è buono però No 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 Solo a granella No coglione Allora ci mettiamo quest'altro Perché quell'altro? Perché questo qua ci serve Da dolcezza Esatto Ci serve un po' di dolcezza qua Che già la vita è amara di suo E userei con una bella Perché bussano i c***o? Una bella spolverata di pistacchio Una dose generosa Ragazzi questo Ah però è carino Ma guarda ma noi ridiamo scherziamo Facciamo gli stupidini No la bella è molto bella Adesso però L'importante è andare a metterlo in frigorifero Per un tre orette circa Così si va a solidificare Ci vediamo Tra tre orette Ed eccomi qua Sono passate tre orette Ti voglio dire ci siamo divertiti in queste tre orette Si è una bella partita a FIFA Bello poi io a FIFA Allora Raga Posso dire che è bellissimo Se tu dai una ciotoletta così al ristorante Sono 25 litri a misù E tutto il pistacchio che c'è sta qua dentro Mamma mia guarda che bello Vedi che se è bello un solidificato Perché è stato un frigorifero no? Sì Ma perché ci piace il culo? Perché non è stato troppo in frigo? Si Sanciamo Guarda se ne è un po' più denso Eh Ma che stiamo a fare? È buono Dunque c'è quel pistacchio Allora il fatto sai qual è raga? Che se volete farti la sua pistacchio A pistacchio Dovete comprare il pistacchio Buono Perché se no ti sta ben cazzo Questo invece Raga guarda A parte gli scherzi Andava messo in frigo Dove essere un po' più densa la cremetta ma Boh noi per ragioni che oggi stiamo a fare un sacco di video E mi sono preso un botto di calorie oggi ve lo dico Però è buono Merita veramente tanto È veramente buono Guarda Però raga Questo è buonissimo sai perché Questo è salato E sa veramente tanto di pistacchio Se non c'avete il pistacchio buono Non sa di pistacchio Non so con i crisi o con i cosi verdi Con la roba chimica brutta Ma me devo fermare non sto a scherzare È tendenzialmente un po' più dolce di quell'altro Perché ci abbiamo messo la crema al pistacchio questa qua Però ci sta Però ci sta Raga perché non è troppo dolce Non è giusto Il latte è buono Raga Buonissimo Allora questo è senza mascarpone Poi se a uno ci piace Ragazzi ho un mischiato Che ho messo la ricotta per cambiare un po' Io gli do 4 4 4,6 No no Perché mi manca quel 4 della densità Arriva 5 Un po' di mascarpone vabbè 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 io lo volevo fare Perché io facciamo più Non dei savogliardi Di arachio Di arachio Non dei savogliardi Ma tipo con la pizza E fanno una Fanno la crema A No io faccio proprio il tiramisù dolce con dentro il bacon proprio No invece io faccio proprio il tiramisù salato Io faccio proprio il tiramisù salato Troppe idee in questi capocce Troppe Prossimo tiramisù dolce lo scegliete voi Ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao Mmm